Sapevi che su G-10 il taxi può proteggerci dalle aggressioni? Praticamente nel caso ci trovassimo in uno scontro a mani nude con qualche delinquente ci basterà chiamare un taxi e salire come passeggeri e non come piloti Inspiegabilmente questi andranno in debito di ossigeno nelle cervelle e scapperanno senza senso Sì, dai due si fa prima con la pistola, ma vuoi mettere col prendere la 104 in questo modo?